È un periodo di transazione che avviene ogni anno, noi comunque già ci siamo interessati alla fine, al dicembre del 2016, per poter consentire a queste persone che fanno delle attività importanti, nelle scuole, nella manutenzione, servizi alla collettività, di sapere se nel 2017 il progetto veniva riproposto. Abbiamo avuto conferma che già i fondi sono stati stanziati nella finanziaria e che quindi si aspetta adesso da parte degli uffici di Palermo che il progetto venga riavviato per poter consentire a questi lavoratori di potersi occupare dei problemi della città. Inoltre aspettiamo che ci sono novità, ricordiamo che il reddito minimo di inserimento sono lavori, che sono dei lavoratori precari, di capire in base alla nuova legge regionale sui precari quali possono essere le esolte lavorative di queste persone che da più di 20 anni sono messe in una situazione di limbo costante e che ogni anno sono con la spada di Damocle se il progetto viene validato o no. Quest'anno fortunatamente questo problema già in partenza è stato superato perché il progetto verrà riproposto ma sarebbe forse più importante risolverlo definitivamente dandoci quella dignità dei lavoratori che tutti quanti noi spieghiamo.